Grazie Presidente, ovviamente anche noi apprezziamo l'impegno del Presidente a prendere in mano la situazione a verificare, però anche noi riteniamo questa cosa molto grave da un punto di vista istituzionale. Avevo già manifestato fortemente in due situazioni il mio disappunto sulla velocità con cui era stato richiesto a noi consiglieri di lavorare sul PDL di questa importanza, a maggior ragione oggi una dichiarazione sull'esito della valutazione da parte di questa commissione del PDL, addirittura prima che la commissione iniziasse a lavorare francamente è offensivo nei confronti di chi, come per esempio noi, ha lavorato per due settimane all'elaborazione di questi emendamenti. Avere la sensazione che tutto questo lavoro non avesse alcun significato perché tanto le decisioni erano già state prese francamente non è apprezzabile per cui fermo restando anche da parte nostra la disponibilità ad una nuova convocazione anche noi andiamo via. Grazie.